Ciao, buongiorno a tutti gli amici di Good Morning Genova. Questa settimana per la rubrica recensioni veloci di libri volevo segnalarvi uno di quei testi che secondo me sono belli sempre, per sempre. Ed è Autunno tedesco, di Stig Dagerman, pubblicato da Hyperborea. È un autore svedese. È un libro di quelli che sono sicuramente legati a un momento storico ben preciso, a un luogo ben preciso. Dagerman, come molti altri giornalisti, nel 1946 si reca in Germania a visitare le città distrutte e vuole cercare di dare una risposta, di dare una chiave di lettura a quello che è successo in Europa durante la guerra e nell'immediato dopo guerra. A differenza però di tutti gli altri libri che sono stati scritti, o di molti degli altri libri che sono stati scritti, quello che fa di Autunno tedesco un capolavoro, una perla assoluta nel suo genere, è la capacità di Dagerman di essere lucido, chiaro, preciso, puntuale, essere completamente libero da ogni tipo di vittimismo, patetismo, tono accusatorio. Riesce a fare un'analisi di quello che è il circostante, di quello che è ciò che lui osserva, le persone con cui parla, che è veramente un punto altissimo dell'acume umano. E questo penso che sia anche il motivo per cui leggere questo brano, questi brani, un insieme di articoli, riesce alcune volte, forse non sempre, a riconciliare il lettore con il genere umano. Tutto. Forse. Grazie. Buone letture. Ciao.